Ciao a tutti, eccomi qua per presentarvi questo bellissimo set della serie That's Not My. Questo set è pieno di 5 libri meravigliosi, sono tutti tattili, sensoriali, come vedete qua, questi materiali ruvidi e soffici che vanno benissimo per i bambini a partire da 6 mesi fino a 2 anni e mezzo. Vi presento i titoli. That's Not My Meerkat. That's Not My Lion That's Not My Monkey That's Not My Panda And That's Not My Elephant That's Not My Lion That's Not My Lion That's Not My Lion That's Not My Lion